Prima di iniziare con il video, fai un salto sulla mia pagina Amazon dove troverai i migliori consigli per gli acquisti su Spider-Man, giochi per PlayStation, anime e molto altro ancora. Acquistando dalla pagina, aiuterete a sostenere il canale. Trovate il link in descrizione e nei commenti. 3, 2, 1, B. Madonna, vediamo che cosa esce. Sabbia, fulmini, ah no, quello è Spider-Man No Way. Eccoli qui, Spider-Man, Harry. Ma allagga il trailer? No, a me no. Dai, dai, dai. Aspetta. Oh mio, oh, oh. No, questo non è gameplay però. Non può essere gameplay. Non è che l'ho messo. Mi stava... Oh, che bello. Madò, ma la grafica? Ok, questa è la parte del gameplay. Attenzione, attenzione. Gli amici di Kraven. Chi è? Mi sa che c'è un attimo di ritardo. Eh sì, Mary Jane, bellissima. Zio Kraven. Peter che fa il maggiordomo. Mr. Negadion, il simbionte. Ah, il simbionte che arriva sulla terra come nei fumetti. Nella serie animata. Madò, madò. Ma sto chiamando il sacco. No, tanta roba. No, Lizard. Oh mio Dio. Ma cos'era? Aspetta. Cosa? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. D'aiuto, aiuto, aiuto, aiuto. Cosa sto vedendo? Cosa sto vedendo? Cosa sto vedendo? Oh mio Dio. Mi è caduto pure la cuffia. Oh mio Dio, meno. No, ma lui. Spetta, spetta. No. Madò. Ma è giocabile, eh? Non mi dire che è giocabile. Non lo so, non lo so. No, ma c'era il ritardo. Eravamo, io ero tipo qualche secondo in più. Sì, ma perché mi è partito il trailer a rallentatore. Non so perché. 20 ottobre. Non arriverà mai il 20 ottobre. Stupendo, stupendo. Non arriverà mai. Quanta roba c'è, quanta roba c'è. Troppa, troppa. Quanta roba c'è. Cosa dobbiamo fare? L'altra reaction? Del bundle? Però non penso, cioè, sia... No, vabbè, il bundle, sti cazzi. Quella è la console. Vabbè, vediamo anche quella. Dai, mai. Eh, aspetta, perché? Quello facciamo in sync, però. Sì, sì, sì. Ok, tutto messo a posto qui. Countdown di nuovo? Trailer. Vediamo. Aspetta, magari la velocità, se riesci così, non la gai. No, 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 è già imposta. Non so perché prima si è imposta a 75. Dai, dai. No, io non lo vedo più, però. Come no? Quello del bundle. Non so perché, mi lagga proprio. Prima me li dava, adesso... Eh, sì, dai, mandamelo. Ah, no, ok, adesso c'è. Eh, continuo a laggare. Visto? Sì, sì, adesso c'è. Madonna, aspetta. Mi è partito. Ok. Pro da capo, 4k. Madonna, ma quante roba, quante roba abbiamo visto? Quanta roba abbiamo... C'è Malveno, ma alla fine? Malveno, ma alla fine? Troppo incredibile. Troppo incredibile. Comunque il Venom alla fine, e secondo me... Sai la cosa assurda qual è? È che nel gameplay, ti viene detto che Harry sta male. Però, questo story trailer lo vediamo che sta da dio. Conosce Miles, e conosce... Cioè, Peter, insomma... Vabbè, ma è in quella capsula apposta per riprendersi dove... Sì, ma si vede che dopo probabilmente starà male, e a quel punto... Però mi fa pensare che... Quindi non sarà lui Venom subito? Sarà male dopo? Non lo so... Cioè, onestamente... Così, al volo, non so se... Non so se vedremo più di un Venom. Non ho più questa sicurezza. No, 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 non credo. Ovviamente ci vuole un'analisi. Sarebbe ottimo anche avere l'italiano, ma non uscirà mai, però... Io, dei dialoghi, non ci ho capito un cazzo. Non ho sentito niente, non ho... No, no, esatto. Ma poi, io tra l'altro avevo te in cuffia, in ritardo. Perché io stavo guardando le altre robe. Quindi quando parlavo, non ti sentivo. Ma è stato un po' un casino. Dai, questo facciamolo partire. Sì, 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 vai. Countdown, vado? Vai, tre. Due. Due. Uno. Via. Vai. Simbionto, vai. Sì, sì, sì. Ok, qua siamo in sync. No. Ma cosa? Ma chi è che spi... È Miles. Miles è Peter? Aspetta, aspetta. Sì, sì, sì. Stanno partorendo? Che cazzo è? Si, stanno combattendo... No, ah, ok. No. Era perché l'effetto del... Ci sta, ci sta, ci sta. Sembra che stessero spingendo, tipo un quarto. Ok. Bella la scatolina. Sì, sì, sì. Bella, 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 bella. Sì, sì. Bella, bella la scatola. Sembra, limited edition, mondo, ok. Bella, bella, bella. Ah, ok. 20 ottobre il gioco. Bene, bene, abbiamo mangiato bene, dai. Sì, sì, sì. Tanta roba. Sì, sì. Sì, questo era, va bene. Promo... Sì, sì, sì. Sì, 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 sazi, sazi. Siamo sazi figli. Di video... Di video ce ne sono da fare, eh. Ce ne sono da fare di video. Ciao, ciao. Eh, ma con uno story trailer, di teoria, ne possono uscire tante. Io intanto sto facendo zapping sul teaser. Comunque, sti capelli di Peter. Sì, sì, ma ce lo riguardiamo in live giusto stavolta? Magari facciamo una re-reaction giusta. Re-reaction giusta, dai. Ne carichiamo due. Così facciamo tre reaction domani. Ok. Le mettiamo tutte e via. Comunque... Ma perché era partito tipo rallentato, cioè con la velocità? Sì, perché forse con la rotellina in automatico mi ha spostato invece di da normale a 0,75. Infatti ti avevo detto, sembra che lagga, e invece ha rallentato ora. Adesso hai detto lagga, no? Non l'ho... Va bene, dai, rifacciamo. Ripetiamo, intanto non mi ricordo più niente perché è stato... Esatto, e poi non ho capito niente. Esatto, vai. Pronto? Allora, 3, 2, 1, vai. Ok, siamo su PS Studios. È fin lì. È fin lì. È un miracolo che sto qui adesso. Ho una seconda chance. Ora prendo avanti. Ah, qui mi sa che lo sto ringraziando per le missioni che abbiamo fatto nel gioco. Sì, 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 sì. Eh, sì, sì, sì. Magari cerchiamo anche di capire dialoghi questa volta. Grazie. Facchissimi. Questo, se graficamente... Questo sì che è un upgrade, ma... Ciao! Ho qualche buio. Dopo ti dico una roba. No, ma qua la grafica è 10 volte meglio, eh. Allora, Mary Jane. Non ho capito ancora cosa ha detto perché sono troppo in hype, però fa niente. Ma chi è questa specie di grafica qua 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 qua? Non lo so, forse... No, forse è uno dei suoi... È Kratos. Ma scusate, ma Lugia è un'altra faccia. Ma ne l'ho detto! Sembrava un'altra faccia. Ma poi Peter qua fa il cameriere. Il simbionte che... Ah, quindi forse è un altro simbionte? Forse è Prì quella? Chi è quella con le catene lì? No, 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 è... È Yuri, è Yuri, è Yuri. Questo era il nostro sogno Peter che impazzisce con Lizard Ma la tutta Va troppo veloce Va troppo veloce Ma questo è Venom Non l'avevo sentito Ma quanto è frigo Sai cosa allora Questo dobbiamo guardarlo in 0.25 C'è altro che Ce l'ho partito bene io prima Dovevo partire così tutte e due No comunque A un certo punto non si capisce più niente No ma troppa roba Troppa roba A parte che la grafica La roba che ti dico è che Secondo me come avevo detto in live Al playstation showcase Secondo me il trailer gameplay Che ci ha mostrato Era quello che avevano pronto per ottobre Quindi questa roba È quella che vedremo nel gioco effettivamente Quindi si vede che la grafica là È meno Cioè ci viene Lo vedi anche tu dai dimmelo Non puoi lamentarti su questo Ci vede sì o no Qui è sicuramente meglio Questo sembra proprio un'esclusiva PS5 Anche dai capelli Cioè ma poi la sequenza dove si buttano all'inizio Loro due Ma cos'è? Cioè poi non so se è perché lo sto guardando in 4k Però ecco ecco Proprio su quello ti volevo Quando ho visto la scena di loro due che si lanciano In altri momenti sembra un po' più Sembra avere dei momenti un po' più sicuri In momenti un po' più incerti Però Se è come Appunto in quei momenti buoni Io l'ho vista perfetta quella Eh sì Quella lì dove si lanciano Sì quella è perfetta Quella è perfetta No Comunque Questa è da guardare a 0.25 Terza reaction di questo Terza reaction a 0.25 Asin voix C'è Ah Sì In Tu C'è Non